I lavoratori della Repubblica di San Marino scendono in piazza in difesa del posto di lavoro e per regole in grado di salvaguardare occupazione ed economia. E preoccupazioni per la situazione sono state espresse anche dal Parlamento della Piccola Repubblica, che unanimemente ha espresso i suoi dubbi legati alla notizia di una nuova stretta fiscale italiana che vorrebbe da San Marino lo scambio automatico di informazioni, il che potrebbe portare molte imprese a ripensare la propria politica del lavoro e addirittura chiudere. A rischio potrebbero essere anche gli oltre 6.000 lavoratori italiani che ogni giorno varcano la frontiera, i cosiddetti frontalieri. Dopo una lunga giornata il Parlamento sanmarinese ha convenuto sulla necessità di difendere il sistema economico e lo Stato sociale. San Marino auspica la possibilità di trovare un accordo con Roma. L'Italia ha già valutato positivamente lo sforzo sanmarinese nell'attuare le riforme decise col cosiddetto pacchetto trasparenza. Si tratta di riforme di carattere tributario fiscale che allineano il monte titano agli standard internazionali.